Per dovere d'ufficio ho dovuto sempre parlare di tolleranza, ora mi sono stufato, dico quello che penso, questi islamici non li sopporto e mi sono intollerabili. Questa è la reazione di Don Pasquale Giampaglia, parroco di Forlì del Sagno in seguito alla strage di Nizza. Un post pubblicato sul profilo Facebook del prete originario di Castellammare di Stabia, che ha sconvolto non poco l'opinione pubblica, seppur molto apprezzato dal rappresentante della Lega Salvini. Sulla vicenda ora atteso l'intervento della curia di Isernia, a punirlo per il momento lo stesso Facebook, che a poche ore dal post che aveva fatto incetta di like e di critiche, ha rimosso il profilo del parroco. Parole che delineano xenofobia e razzismo, dunque, che non avrebbero destato tutto questo scalpore risalto anche nazionale se a dirle non fosse stato un uomo con la tunica, solito invece predicare pace e bene. Ma Don Pasquale, il giorno successivo allo scandalo, si confessa pubblicamente ed ammette di aver sbagliato i toni e sicuramente i modi. Le mie parole sono state dettate dalla rabbia. Quanto accaduto a Nizza mi ha profondamente turbato, ha specificato il sacerdote 44enne, che ha continuato. Devo ammettere a mente più serena e facendo prevalere la ragione all'istinto di aver usato un tono inaccettabile. Intanto non si esclude un provvedimento del Vescovo.